Teresa Casini, nacque a Frascati, cittadina dei Castelli Romani, il 27 ottobre 1864, primogenita dell'ingegner Tommaso Casini e Melania Reiner, di nazionalità belga, ricevette il battesimo nella cattedrale di Frascati due giorni dopo la nascita. Per volontà del padre ad accompagnare dal fonte battesimale, ci fu una schiera di poveri, quegli stessi che più di una volta, in braccio al genitore o a una domestica, vide bussare alla porta di casa. Quando Teresa aveva circa dieci anni, l'ingegner Tommaso, che fu il primo suo educatore, morì. La bambina dovette trasferirsi con la madre grotta ferrata presso i nonni materni, i quali si erano stabiliti definitivamente in Italia dopo un periodo trascorso in Russia. Nel 1875 divenne allunna del collegio di Santa Rufina a Roma, tenuto dalle dame del Sacro Cuore, dove avvertì vivamente il desiderio di consacrarsi a Dio. Il 7 maggio 1876, giorno della sua prima comunione, promise a Gesù che sarebbe stata tutta sua per sempre. Una volta rientrata in famiglia per motivi di salute, tuttavia, si trovò a vivere un periodo di grande disagio. Per ubbidire alla madre, dovette frequentare la vita di società, ma avvertiva come un vuoto nel cuore. L'unico modo con cui riusciva a colmarlo era mediante la preghiera. Si affidò quindi alla direzione spirituale di padre Rassegno Pellegrini, abate dell'abbazia basiliana di Grottaferrata, che l'aiutò a guardare dentro di sé. La svolta nel suo percorso, fino ad allora simile a quello di tante ragazze devote della sua epoca, accade una domenica, dopo la messa cantata. Mentre era assorta in meditazione, le si presentò un'immagine concreta, il cuore di Gesù trafitto da una spina. Udi anche una voce che diceva, questa spina è conficcata nel mio cuore da quei sacerdoti che, dimentichi del loro carattere, offendono con le loro fedeltà il mio padre celeste. Da allora iniziò a farsi in lei l'idea di un'opera riparatrice nei riguardi dei sacerdoti. Tuttavia, per ubbidire ai consigli del direttore spirituale, il primo di ottobre del 1885 Teresa entrò tra le cralisse del monastero romano della Santissima Concezione, presso la basilica di San Pietro in vincoli, tanto severo che le sue abitanti erano definite le sepolte vive. Il 2 febbraio 1886, un anno dopo l'ingresso in monastero, la giovane compì la vestizione e prese il nome di Suor Maria Serafina dal cuore di Gesù trafitto. Purtroppo, la sua malferma salute, unita ad alcune prove di carattere soprannaturale, la costrinse ad uscire dal monastero e lo lasciò il 2 dicembre 1886. Nel giro di due settimane dal ritorno a casa, Teresa si riprese completamente e cominciò ad andare a pregare fuori casa. Il suo nuovo logo prediletto fu la cappella del sacro cuore della chiesa parrocchiale di San Rocco Frascati, che versava in condizioni di abbandono, ma mentre si occupava di restaurarla, riaffierava in lei il desiderio di portare anime al Signore, particolarmente a quelle dei sacerdote. Mentre l'idea si faceva sempre più chiara, padre Pellegrini intervenne di nuovo, suggerendole di entrare in contatto con una certa Maria Rosalia, che aveva fondata una piccola comunità, le vere amanti del cuore di Gesù. Inizialmente abitava da sola presso la canonica della chiesa di San Lorenzo in Damaso, a Roma, ma da quando ebbe le prime compagne, si era trasferita in un appartamento vicino alla chiesa di Santa Maria del Pianto, situata nel ghetto. Dopo un primo colloquio, Teresa si trasferì dalla poveretta del cuore di Gesù, come Maria Rosalia voleva farsi chiamare. La vita comunitaria, quasi priva di regole, lo squallore dell'ambiente e la stranezza della poveretta, misero a dura prova a Teresa, anche se il direttore spirituale le esortava ad ubbidirle. Quando la donna si ammalò di tubercolosi, fu proprio lei che aveva preso a osteggiare apertamente a prendersene cura fino alla morte, nel novembre 1887. Ritornata a Grotta Ferrato, comprese che non valeva la pena rientrare in famiglia. Si trasferì quindi da Enricetta Spalletta, sposata ma senza figli, che le diede una stanza in affitto, quando alcune amiche presero a venirla a trovare sempre più spesso. Fu il caso di traslocare di nuovo, ma prima in casa Consoli, dove fu raggiunta dalla prima compagna, Clorinda Canestri, sorella della sua amica e omoanima Teresa. Il 2 ottobre 1889, non molto tempo dopo la morte di Clorinda, Teresa Casini, Teresa Canestri e Angelina Mascherucci si associarono per fare vita comune. La nuova loro sede fu Casa Roncaccia. Per sottrarsi al problema dell'affitto, Teresa sottopose all'umiliazione della questua per ordine di padre Pellegrini e vendette la propria parte di eredità per costruire una casa propria. Infine, il 12 ottobre 1892, arrivarono le chiavi della nuova casa. Pochi giorni dopo, il 17, la piccola comunità prese possesso della nuova abitazione. Il 2 febbraio del 94, il gruppo prese il nome di Vittime del Sacro Cuore, costituendo così con le prime aderenti un nuovo istituto di clausura stretta. Il prezzo da pagare fu l'uscita di Angelina, ormai seriamente malato e tubercolosi, o nessun'altra giovane avrebbe potuto entrare. Il 1 aprile del 96 arrivò il decreto di Lode dal vescovo di Frascati. A far parte del noviziato c'era anche Teresa Casini, ora Suor Maria Teresa del cuore di Gesù Trafitto, nonché madre fondatrice. Pur in mezzo a difficoltà materiali o alle opposizioni di padre Pellegrini, madre Teresa rimase sempre fedele a un suo ideale, cercando allo stesso tempo delle vie per concretizzarlo, convinta come era che un sacerdote santo è la salvezza di chi lo avvicina. Chiuse quindi i rapporti col suo antico direttore spirituale, diventato distante per i troppi impegni, e dopo aver lungamente pregato ne trovò uno nuovo nella persona di padre Joseph Gallois dei Maristi. Su esortazione anche del cardinale Francesco Satolli, vescovo di Frascati, le vittime del sacro cuore abolirono la clausura e si aprirono a realizzazioni esterne. Nel 1910 madre Teresa inaugurò il primo laboratorio a Grotta Ferrata per educare le figlie del popolo. Era una forma indiretta per far sorgere all'interno delle famiglie giovani da chiamare la dignità sacerdotale. Per evitare incomprensioni coi padri basiliani, l'educandato venne poi trasferito a Roma, dove la fondatrice andò a risiedere stabilmente. Il primo novembre 1916 l'istituto cambiò nome in Suoroblata del sacro cuore di Gesù, ma lo spirito rimase lo stesso. Alla realtà dei laboratori femminili se ne aggiunse un'altra più mirata. Si trattava dei collegi dei piccoli amici di Giù. Il nome fu suggerito dal terzo direttore di madre Teresa, don Giuseppe Perrone, sorti del 1925, anche se i primi passi risalgono al 22. Lo scopo era ad accogliere ed educare adeguatamente i fanciulli che dimostravano una naturale inclinazione al sacerdozio e quindi avviarli, compiuti 12 anni, al seminario. Negli anni del primo conflitto mondiale scorse poi una nuova ispirazione, accogliere in case specifiche i sacerdoti anziani malati bisognosi. Un grande aiuto per l'espansione dell'opera fu dato da Monsignor Fortunato Maria Farini, vescovo di Foggia e Troie, che aveva già aiutato nel napoletano, don Giuseppe Russo Lillo, nello sviluppo delle sue società delle divine vocazioni. Grazie al vescovo, che attualmente è servo di Dio, i piccoli amici ebbero un collegio ad Orsara, il primo fuori dal Lazio. Nel maggio 1925, tuttavia, la salute di madre Teresa ebbero un improvviso tracollo. Mentre si stava preparando per andare alla posa della prima pietra della nuova casa, fu colpita da paralisi. Si riprese, ma dovette tornare definitivamente a grotta ferrata nel 30. Era costretta a letto, ma non stava inerte. A suo capezzale accorrevano continuamente suore, sacerdoti, seminaristi, tutti bisognosi di una parola di consolazione. Dal 18 marzo del 37 la situazione si aggravò. Insieme al melico arrivò anche il confessore padre Daniele Barbiellini Amidei, che l'amministrò l'unzione degli infermi, al cui rito partecipò cosciente, ma con un filo di voce. La crisi nel giro di una settimana parve superata. Tanto serena appariva l'ammalata. Il 2 aprile il confessore tornò e le chiese come si sentisse. Sto tanto tranquilla, sento Dio vicino a me, gli rispose. Passata la mezzanotte del 3 aprile, madre Teresa entrò in agonia. Si spense alle 5. Aveva 72 anni. I suoi solenni funerali furono celebrati presso la parrocchia del Sacro Cuore preceduti da una messa nella abbazia di grotta ferrata. Il corpo accompagnato da una folla, che già la considerava santa, fu tumulata nella cappella delle zelatrici del Sacro Cuore, del locale cimitero. Un anno dopo i piccoli amici diedero al primo frutto, l'ordinazione sacerdotale di Don Cosimo Petino, che era passata al pontificio seminario romano. La fama di santità di madre Teresa non venne meno e fu riconfermata quando i suoi resti vennero traslati nella cappella della Santa madre di grotta ferrata. Per questo motivo nel 1952 fu avviata la fase di Ocesana del suo primo processo per l'accertamento dell'eroicità delle sue virtù conclusa nel 62. Nel contesto del processo venne predisposta una nuova ricognizione dei resti mortali, traslati il 20 maggio del 65, nella chiesa annessa alla Casa Generalizza delle Oblate a Roma, in via Casaletto. La fase romana della causa di verificazione si è svolta dall'82 all'85 ed è stata convalidata l'8 novembre appunto dell'85. La posizio super vitudibus è stata consegnata alla Congregazione Vaticana con le cause dei Santi nel 91. A seguito della riunione dei consultori teologi il 22 ottobre del 96 e dei cardinali vescovi membri della Congregazione il 20 maggio del 97, San Giovanni Paolo II ha autorizzato la promulgazione del degretto che il 7 luglio del 97 dichiarava venerabile madre Teresa Casini. Come miracolo per ottenere la benedificazione è stato preso in esame il caso di Jacob Ronald Sebest, detto Jack, residente a Campbell, nella diocesi di Youngstown, in Ohio. A cinque anni era caduto in una piscina, durante una festa rimanendo sott'acqua per 11 minuti. Trasportati in ospedale le venne diagnosticata una sindrome di annegamento con coma post-anoressico. Se fosse sopravvissuto avrebbe avuto danni generali permanenti. Il padre del bambino chiamò le oblati che risiedevano nella sua diocesi dal 49 e gestivano l'asilo alla scuola elementare frequentata dai bambini e della famiglia Sebest. Due suore vegliarono insieme ai genitori, mentre altri due, giunti l'indomani mattina, diedero un santino della loro fondatrice alla madre del piccolo, la quale lo mise sotto il suo cuscino. Poco meno di 48 ore dall'accaduto, verso le 19 del venerdì del 27 giugno 2003, il bambino diede segni di risveglio del coma, muovendo braccia e gambe. Era la solennità del sacro cuore, inoltre, nel momento della ripresa, nella cappella delle suore che si stava celebrando la messa. L'indomani Jack venne deintubato, due giorni dopo poteva mangiare cibi solidi e infine venne dimesso. Per accertare che il fatto potesse essere dichiarato scientificamente inspiegabile, venne istituito il Tribunale di Ocesano per l'inchiesta sul miracolo, che si svolse il 13 dicembre del 2007, al 19 marzo 2009, ed è stata convalidata il 5 febbraio 2010. La Commissione Medica della Congregazione per le Cause dei Santi ha dato parere positivo, il 22 maggio del 2014, confermato dai consultori teologi il 20 novembre dello stesso anno e infine dai cardinali e vescovi membri il 20 gennaio 2015. Due giorni dopo, il 22 gennaio 2015, Papa Francesco ha ricevuto il cardinal Angelo Amato, prefetto delle Cause dei Santi e autorizzata la promulgazione del decreto del miracolo. Madre Teresa Casini è stata beatificata sulla piazza della cattedrale di San Pietro Apostolo, a Frascati, il 31 ottobre 2015. La data e la sua memoria liturgica, per le suore alla diocesi di appartenenza, è fissata per il 29 ottobre, anniversario del suo battesimo. Oggi le oblate del Sacro Cuore di diritto pontificio, dal 5 dicembre 1947 sono diffuse, oltre che in Italia, negli Stati Uniti d'America, in Ohio, come già detto a proposito del miracolo, in Brasile, nello stato del Maraniao, in Peru, nella regione di Lima, in India, nello stato della Kerala e in Africa, in Guinea-Bissau. Dal 1946 assistono i sacerdoti nelle parrocchie, nelle case del clero e dovunque la loro presenza sia richiesta. La biografia è presa appunto da santibeati.it, l'autrice è Emilia Flocchini. Grazie Grazie Grazie.